La Regione Lombardia ha sostenuto, è stata al fianco di Confagricoltura di questi progetti in un'estate che è stata un'estate magica, quella dell'esposizione universale. Beh, Expo è stata certamente ed è ancora tutt'oggi e resterà nella memoria di tutti come un grande successo del nostro paese, dove tutti si sono tolti le magliette della propria squadra e hanno lavorato per riuscire ad ottenere un'esposizione e per cercare di renderla al meglio. È grande successo anche per ciò che è stato in grado di produrre al di fuori delle sue mura, quindi nella città di Milano ad esempio, dove fra le tante iniziative si è compreso non solo il valore dell'alimentazione italiana, ma anche della cultura, della storia, delle tradizioni, della bellezza in termini più generali e ampi. E Confagricoltura è stata in grado di cogliere a pieno quello che i suoi allevatori, i suoi agricoltori da anni, ma possiamo dire da secoli, sono riusciti a realizzare. La bellezza dell'Italia e la bellezza della Lombardia. Ovvero hanno trasformato zone abbandonate, paludose, in zone agricole, hanno plasmato il paesaggio e hanno reso la nostra regione, anche questa regione, la Lombardia è una regione splendida. E qua il connubio di mettere a fianco della bellezza degli agricoltori e degli allevatori, la bellezza della storia, della cultura, delle tradizioni, della nostra vita, sicuramente è stata la grande capacità che ha consentito di avere come cornice il centro di Milano che è stata sicuramente la ciliegina sulla torta. Quindi grande successo e questa esperienza deve lasciare le sue tracce nel futuro. Expo finisce i suoi effetti, no, e dobbiamo certamente beneficiarne tutti.